Stai fuori tempo! Sento Qua c'è l'audio tonno Vai di mettere più a sinistra Ah, quello che è Senti Non è un po' Alla Voi Alla 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 L'accendino chi lo tiene? Sì, la 1, la 2, la 3, l'accendino 1, 2, 3, chi l'accende è Dino Mi hai fatto Fanna Frank la sigaretta 5 minuti con l'accendino Allora, che che devi fare qua? Cristian, che è il tuo bordo